Dunque, come dicevo, sono in questa stanza chiusa con altre due, due, tre, quattro, cinque, sei persone, ognuna con qualche problema di ingresso o di visto, non ho lo zaino, ho pochissima batteria, non ho il passaporto e non ho capito se quando me lo ridanno e con che volo rimpatrio. Mi hanno chiesto di firmare un documento che non ho firmato perché era scritto praticamente tutto in turco, ho solo letto una parte in cui ce l'ha scritto Bagnet, ma senza dare motivazioni. Sono stata perquisita e rinchiusa in questo spazio che ora vi mostro.